Il cancello è lì in fondo, secondo me ha aperto la porticina, c'è un campanello sulla sinistra. Quando sono in cella, il mio campo visivo è di due, al massimo tre metri. I colori mi permettono di ampliare le mie vedute e di liberare la mia immaginazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.